nina make up e asmr amori sono un pochino sull'altalena vedete qui è bellissimo e spero che nell'altro video vi siate rilassati un pochettino spero che i suoni della natura si sentano mi dispiace non aver portato con me il microfono perché sarebbe stato diverso mi lascio una buona domenica un buon weekend anche se è quasi passato un bacione forte ciao purtroppo ti ho tirato il microfono e volevo portarlo sono in mezzo alla natura sopra la montagna di ragia e volevo sentire un po i suoni della natura non so come si sente però ci provo qua 10 minuti tol'ena che bello questo fiore bellissimo lo cercano di andare un pochettino dove stanno le foglie e e e e e mi spiace aver dimenticato il cellulare purtroppo ci sono degli incidini che buttano anche come avete potuto vedere il bicchiere che ho appena capestato per fare un pochettino di suono per fortuna la fotocamera esterna non mi sta abbandonando perché solitamente non funziona e diciamo che fa dei capricci ma adesso sta funzionando per fortuna noi siamo qui per trascorrere un'altra domenica in famiglia sono con mia madre il mio ragazzo il mio compagno e la famiglia il mio compagno il nonno la moglie mio suocero e mia suocera è spero che si sienta qualcosa la mia è è è è è è mi hanno fatto che quando si sono ormai sono ormai sono ormai che sono ormai adesso no non guarda se non guarda si non guarda non guarda non guarda non guarda guardate che bello, qua c'è una pace incredibile, davvero incredibile ci sono dei tavoli, dei tavoli in legno dove possiamo, le panchine in legno dove possiamo sederci e mangiare tranquillamente e noi siamo lì giù posizionati e poi ci sono un sacco di artalene, volevo farvi sentire un po' di suoni della natura, spero che si senta qualcosa a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.